Carissimi, buongiorno, come state? Tutto bene? Stamattina vogliamo darvi alcune indicazioni su come ricominciare. Abbiamo voglia di tornare in parrocchia, abbiamo voglia di pregare insieme, abbiamo voglia di trovarsi nella nostra casa, la seconda casa, la parrocchia. Allora vediamo alcuni comportamenti importantissimi necessari da tenere nei prossimi tempi. Dove credete di andare? In chiesa. Eh, la distanza? Ecco. E non suona la mascherina? Ah, è bello, è calda anche a me. Bene, andiamo, ci avviamo alla chiesa. No, no, non sai che l'acqua non c'è? Non me ne era accorto. No, non si usa. Invece dell'acqua fai il segno della croce normale, senza. Ecco, benissimo. Se volete c'è per igienizzare le mani, guardate come l'abbiamo protetto bene, poi ne abbiamo due là pronti, vedete, due nuovi, di ottima qualità per igienizzare le mani. E le metteremo qui, diciamo, al posto dell'acqua santa, va bene? Dove stai andando? Ah, adesso. E la mascherina? Non ce l'ho. Non ce l'hai? Allora, ce ne sono qui, guarda, a disposizione e le ha fatte una signora gratuitamente, proprio per tutti. C'è adulto e bambino. Voi questa è qui bella, o è da donna questa? Penso che la verità è qualcosa di un po' più adotico. Ah no, va bene, allora, scegli la mascherina, va bene, e poi entra, benissimo. Entra pure, siediti, ci sarà qualcuno che ti accompagna. Ma cosa ho detto io? Cosa servono i segni? Ah, sono i segni per sederci. Certo, devi stare davanti ai segni, te l'avevo detto. Davanti al segno, ecco. Davanti al segno, si accomodi lei. Ecco. Bene. Anche la signora, venga, che è capitata qui. Ecco. La mascherina ce l'ha, si mette al segno. Ecco. Perfetto. Andiamo a prendere il metro. Serma. Serma. Stai su. Sì. Sì. Un metro c'è. Alzati in piedi. Stai davanti, così. Stai davanti. Sì, sì. C'è 1,30, va benissimo. Sì, lì c'è più di 1. Lì c'è la 1,50, tutto. Va benissimo, va benissimo. Ok. Però mettiti lì, vediamo nel mezzo. Tu mettiti qui, che misuriamo. Ecco. Sì, no, la miseria. Sì, sì. Va bene, va bene. Senta l'ora. Ok. Donno, dove sono i foglietti? Ma te non sai neanche cosa sono i foglietti. Non ne so cosa sono. Donno. Non hai letto le norme, Filippo? No. Eh? No. I foglietti non ci sono per non avere il contatto, quindi per qualche domenica non ne abbiamo. Hai capito perché? Ascolteremo solo la messa. Ascolteremo la messa, va bene. Va bene. Ciao. Ma no, ma cosa state facendo? No, no. Eh? Quello che abbiamo sempre fatto. No, è vietato, non lo sai, non si può passare col cestino perché c'è il contatto. Allora, l'offerta è dove si mette, Filippo? Riprendi, riprendi i tuoi soldi. Ecco. Quando si entra dalla messa c'è questa grande cassetta qui. Va bene? Si mette come fare le lezioni. Va bene. Chi vuole? Ok. Va bene, va bene. Ecco. Benissimo. E ora, senza che ci sia il contatto, senza toccarvi, facendovi solo uno sguardo, datevi il segno della pace. Ma cosa ho detto? Solo con lo sguardo guardatevi, scambiatevi la pace. Benissimo, benissimo. Ora è il momento della comunione. Tieni la mascherina e la togli quando io sono andato via. Allunga le mani, per bene. Cos'è quello? No, no, no. Allunga per bene le mani. Ecco, allunga. Io la comunione te la lascio cadere così, voglio che non caschi. Ecco. Quando io sono andato via, ecco, fai pure la comunione. Ecco. Apri pure. Ok. Benissimo. Ecco, vogliamo allora ritrovarci, ricominciare. Qui abbiamo tutti i posti, vedete, 121 posti segnati anche nei laterali, vedete. Se non basteranno metteremo fuori altra gente, nel tendone ci saranno i microfoni anche lì pronti. Oppure potremo anche vedere volta per volta, poi vedremo anche i vari orari, fare la messa anche fuori se c'è un pochino di ombra, vediamo come. Quindi mi raccomando, tornate nella serenità, staremo benissimo e vogliamo pregare insieme. E dopo ogni Santa Messa puliremo, c'è la regola di igienizzare le panche, lo schiena, e quindi c'erano del Signore, troveremo chi vuole, diciamo, dare la disponibilità, non me lo dica, così ogni messa ci saranno dei volontari come la Pina, che è qui, Carlo, che puliranno la Chiesa. E ci saranno anche, all'inizio della Santa Messa, persone che accompagnano la gente nelle panche, che anche Carlo lo farà, vero, alla Messa delle Undici, persone che accompagneranno nelle panche la gente e guarderanno che hanno la mascherina e che siano tutti in regola. E quando sei in chiesa, mi raccomando, non spostare niente, le panche, le sedi sono tutte a misura, quindi non spostare niente, mi raccomando, mi raccomando. Carlo, non spostare niente quando sei a Messa, tutto è stato predisposto, va bene? Mi raccomando, ciao, mi raccomando. La Messa è finita, adesso andate in pazzo, ci vediamo domenica prossima, eh? E prego, uscite pure. No, no, no. Quelli della parte di qua escono dal centro, diciamo, a sinistra dell'altare, invece quelli di destra dalla porta di qua. Va bene? Uscito dal cancello, così dalla porta di là, va bene? Tutti questi di qua, dalla porta di là. Bene. Grazie a Carlo, Lapina e Filippo che erano, sono passati qui in questo momento, avevo l'idea di fare il video, l'ho coinvolti, grazie, eh? E buona giornata, buona domenica, eh? Grazie. Ecco. Ciao. 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 Grazie a tutti.